Che cosa chiedete con questo presidio? Innanzitutto chiediamo chiarezza perché fino ad adesso c'è stata una gran confusione che anche noi non abbiamo, ci dicevano di scioperare e noi non abbiamo mai scioperato fino ad oggi. Chiediamo innanzitutto di salvaguardare il nostro posto di lavoro perché siamo prevalentemente donne di un'età che non è pensionabile e visto anche la situazione che c'è in generale non sappiamo che fine faremo a questo punto. Che cosa vi attendete dalla mediazione del prefetto? Uno spiraglio, che la Bialetti ci dia uno spiraglio oppure ci dica veramente come stanno le cose perché per adesso noi stiamo continuando a lavorare ma roba non ne arriva e non stiamo neanche spedendo. Oggi è una giornata di sciopero, in fabbrica si continua a lavorare in questi giorni, con che spirito? Con un bruttissimo spirito, non si sa niente, non sappiamo niente, non abbiamo idea di cosa vogliono fare, non c'è proprio uno spirito di positività, si lavora, si lavora così. Oggi questa è la prima giornata di sciopero, avete in mente nuove iniziative? Se ce ne sarà bisogno assolutamente sì. Quali sono le preoccupazioni? Le preoccupazioni sono importanti, nel senso che è un territorio in cui abbiamo già perso parecchio nel settore manifatturiero. Il fatto di avere un licenziamento collettivo di 39 persone, una procedura di licenziamento collettivo di 39 lavoratori, chiaramente ci preoccupa parecchio. È stata aperta una procedura di licenziamento collettivo, peraltro in maniera anomala, perché nella comunicazione c'è giunto un organico parziale dei lavoratori in capo alla Blue Service, quindi su questo abbiamo immediatamente chiesto una rettifica. Nel frattempo, durante questi giorni, sono uscite delle notizie a livello informale, anche contrastanti, alcune buone, alcune meno buone, e pare che alcune arrivino dalla direzione aziendale che non hanno fatto altro che creare tensione tra i lavoratori e le lavoratrici e anche tra le parti sociali. Quindi noi chiederemo al tavolo responsabilità rispetto al percorso da farsi e chiederemo chiarezza, come lo siamo stati noi fino dal primo giorno, innanzitutto partendo dall'arrivoca immediata dei licenziamenti collettivi.